Controlli a tappeto nella provincia di Arezzo da parte delle forze dell'ordine per far rispettare le limitazioni negli spostamenti in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'emergenza coronavirus. Sale il numero delle denunce penali. Il dato aggiornato comunicato dalla Prefettura fino al 19 di marzo è di 6.231 persone controllate. Gli arettini denunciati per in osservanza del provvedimento sono 243. Fuori casa prevalentemente in auto per spostamenti effettuati senza motivi di lavoro, di salute o di necessità. Le denunce sono salite di giorno in giorno. L'11 di marzo erano appena 12. Adesso sono appunto più di 200. Da parte delle istituzioni viene ovviamente rinnovato l'appello a rimanere a casa e a rispettare le regole affinché l'epidemia possa essere contrastata in maniera corretta e soprattutto efficace. Grazie.